Buon forte, con il numero 16, Andrea Di Marani, con il numero 18, Giovanni Pina del Roma, con il numero 19, Luca Catamessa, e il numero 22, Damanè e Schiera, il numero 19, Giovanni Catamessa, con il numero 19, Luca Catamessa, e ora di presso il numero di Santa Vicenza, e il numero 14, Luca Catamessa,